Musica Salve a tutti ragazzi, eccoci più oggi con uno nuovo video Allora, prima di iniziare il video vi dico subito ricordatevi di andare sulla mia pagina Facebook Non so se si vedrà la maglietta con il pollicione di Facebook Quindi like, subscribe, share e tutto quello che volete Ma adesso andiamo subito con l'apertura del Mega Sharpedo X Premium Collection Prima che passa troppo tempo Allora All'interno troveremo due carte Sharpedo X e Mega Sharpedo X E la Jumbo di Mega Sharpedo EX Poi ci saranno sei pacchetti, due sono Sole e Luna, due Steam Siege Vabbè insomma ora li andremo a vedere Nel frattempo mentre io apro questa confezione voi lasciate un like al video E commentate qua sotto con qual è la vostra carta Jumbo preferita Così a passo, non so perché oggi voglio chiedere questa cosa Ma fatemi sapere qual è la vostra Jumbo preferita Allora, mazza si è aperta molto velocemente Molto bene, allora tiriamo fuori tutto allo salzandero Questa confezione è molto grande quindi la toglierò da qua Se no non c'entra La buttiamo per terra Ah ragazzi dimenticavo prima la spillina Vabbè ora vi faccio vedere tutto Allora La promo e la mega Sì la promo, non sono promo ragazzi Vi ricordo che sono Ih tutta piegata questa Devo tirarla subito fuori ragazzi Allora aspettate Una cosa con calma, una cosa alla volta Piano piano facciamo tutto Allora prima vediamo la spillina Ecco qui Spillina di Mega Sharpedo Spettacolare La mettiamo non so dove Qua dietro Poi abbiamo la moneta La moneta come si tira fuori? Ah così Allora aspettate Ah la carta ragazzi è uscita da sola Eccola qui Sharpedo EX Molto bene Mettiamo subito una sleeve E la sleeve non ce l'ho Aspettate un attimo Appoggio la carta qua Apro la bustina poi intanto Niente L'acca già l'avete messo prima Commento pure Niente aspettate Se riesco ad aprirla velocemente Ok ce l'ho fatta Allora Mettiamo Sharpedo EX dentro la sleeve Che poi mi mancava pure quindi perfetto Poi abbiamo Mega Sharpedo EX Che a sto punto Provo a tirar fuori anche questa Se ci riesco Non lo so Ci provo Attenzione ragazzi Qui sembra facile ragazzi Ma qui c'ho lo spazio molto limitato Ce la posso fare o non ce la posso fare Si sta piegando Si sta piegando Ecco qua Mega Sharpedo Mega Sharpedo EX Spettacolare Guardate questo Mega Sharpedo Molto bello Mettiamola nella sleeve Ah questa invece è promo Allora Sharpedo EX È The Downset Invece questo qua Mega Sharpedo EX È promo Vedete XY200 Mettiamola nella sleeve Mettiamola nella sleeve molto bene Allora Sleeve Eccola qua Allora Queste due le mettiamo da sfondo Dopo le metterò bene Adesso andiamo a prendere anche la medaglietta Se ci riesco Perché qui ogni cosa è difficile Se l'abbiamo fatta Questa la buttiamo Ecco qui la medaglietta di Mega Shar... Dove stai? Mega Sharpedo Guardate come brilla tutta un fondero Poi abbiamo un pacchetto Due pacchetti Tre pacchetti Quattro Attenzione ragazzi C'è un'altra carta promo qui Che è Sharpedo Spirit Link Me lo dimentico sempre ragazzi Ci sta sempre anche questa XY201 Quindi la mettiamo Vabbè nella sleeve pure questa va Tanto è proprio Eccolo qua Allora è arrivata a quattro pacchetti Cinque pacchetti Sei pacchetti Non ho trovato ancora Ah eccola Stavo dicendo la carta codice Eccola qui la togliamo E poi abbiamo I pacchetti La Jumbo La Jumbo di Mega Sharpedo EX Guardatela bene Aspettate Allora ragazzi I Jumbo sono fantastici Allora mettiamo la Jumbo Attenzione casca tutto C'è casca tutto L'ho buttato giù Apposta per farmi spazio Mettiamo Mega Sharpedo EX Là dietro Centrato sì Poi abbiamo Sharpedo Spirit Link Sharpedo EX E Mega Sharpedo EX Quindi mettiamoli qua Se ci riesco Perché non è facile ragazzi Qui c'è poco spazio Più o meno Poi mettiamo la spillina E la medaglietta qua Ce l'abbiamo fatta Adesso abbiamo questi sei pacchetti Ragazzi per aprirli Ci metteremo un pochetto Allora Qui direi di lasciare Un sole e l'una per ultimo No vabbè non lo so Facciamo a caso ragazzi Li giro così al contrario Cioè li riconosco lo stesso Però vabbè Faccio finta di non riconoscerli Li metto Attenzione la porta stregata Come sempre Non ho chiuso la finestra Mannaggia la miseria Allora Iniziamo con il primo pacchetto Così a caso Andiamo con Prime Marina Quindi primo pacchetto Sun e Moon Abbiamo Allora Vediamo Cosa troviamo nel primo pacchetto Si è aperto anche bene Molto bene Ragazzi Molto bene Si è aperto bene Andiamo ad estrarre Vabbè la fancina Lo rompo Tanto ormai ragazzi I pacchetti L'ho già lasciati da parte Una volta Buttina che buttiamo Ragazzi Qua fuori c'è la porta Che non agio Non si fermo un attimo Allora Trick a 4 Questa era solo il luna Si Facciamo così Trick a 4 Andiamo con Messa a fuoco Energia Poliwir Stini Ig Malasada Paras Lillipop Bonesweet Dupider Mareni Trainer Reverse E un Kangaskhan Holo E un Kangaskhan Holo Niente da fare ragazzi Questo primo pacchetto Ci ha dato solo una Reverse Andiamo adesso con Il Secondo pacchetto Allora ragazzi Chiudo l'occhio Così lo scelgano Senza sapere quale scelgo Faccio così Guardo A caso Questo L'altro solo è l'una No Lo volevo lasciare per ultimo Vabbè E' uscito questo ragazzi Non possiamo andare contro il destino Allora Abbiamo Carta codice Pattoncino Trick a 4 Non è possibile Allora Tutti a casa mia stanno oggi Faccio pure l'etichetta Della maglietta Dai fuori Fino da merda Energy Energy Araguanit Nesbo Poliweer Allora Miao Growlite Rug and Rola Cosmog Vitten Tukannon Reverse E un Braxish Niente da fare ragazzi Questo secondo pacchetto Non ci ha dato nulla Che vita di No scherzo Allora Terzo pacchetto Tanto non ho visto che era SimSearch Abbiamo vapori accesi Come terzo Pacchetto Vediamo se questo vapore Accesi è un po' più fortunato Dei pacchetti Sole e luna Perché cazzo Stamerti è casa mia Calmi ragazzi Debbiamo stare tranquilli Non possiamo dire parolacce Se no andiamo Nella modalità Restretta Lì restrizione Come si chiama Non so Io non so cosa fare ragazzi Ma c'è la miseria Io spero che voi Non sentiate le voci Perché altrimenti Se io riguardo il video E sento le loro voci Vado là E meno proprio Questo qua ragazzi Non serve solo per aprire le confezioni Vedete Metti a fuoco Ecco Taglielino Serve anche per fare altre cose Che se ora non vanno via Mh Ando un po' messaggio Gli danno via La gloria Niente Non sta qua Vaffanculo Non sa poi di vaffanculo Non me frega un cazzo Oh eh Ok Stavo a far video Vaffanculo O di sto dice parolacce Questo video Non me lo pubblicherà YouTube Fungus Monkey Drift Che trick ho fatto? Allora Uno, due, tre Ponyard Oshabot Nidoran Fungus Monkey Drift Che trick ho fatto Drift Reverse Vabbè ormai Io mega Niente Trainer Skiplum Ragazzi vedi Mi fanno sbagliare pure il trick Vaffan Niente Devo stare a parlare Io non so che fa Che devono fare Gli ho detto Nanna via Rimangono qua Tanto io non lo pubblico più Voglio bestermiare Sta venire Allora Questo si è aperto bene Forse Si si è aperto bene Carta codice Trick a tre Niente ragazzi Determinazione di misti Trainer Hunter Dodua Pikachu Machop Growlite Onix Machop Reverse E un dacchio A casa Ti parano piano No si tirano proprio Vabbè Trainer Skiplum Trainer Drift Marif Fletching Yam Merit Hoshaw Trevest E un altro Yammega Vai a cagare Che è rimasto Finito tutto Ultimo pacchetto Face con lì Tanto sto video Niente Nella spazzatura Ultimo pacchetto Tanto non trovo niente Manco qua Carta codice Fa cagare Anzi no Carta codice Ma la lascio Trick a tre Faccio pure il trick ragazzi Penso che sangue freddo che ho Caputo Kangaskhan Trainer Snub Sli Riolu Jigglypuff Carbin Grappi che verso E un bucariolo A cagare Ok ragazzi Disastro Va bene Like Subscribe Tutto quello che volete Niente Tutto quello che ti